Svelamenti e ritorna domenica 12 marzo alle ore 18 al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta con uno spettacolo per bambini e ragazzi con un forte messaggio ecologico intitolato Green il Salvaterra. Lunedì 13 marzo è il mattine per le scuole. Lo spettacolo ideato dalla regista e drammaturga Antonella Caldarella offre una narrazione divertente ed educativa sulla tematica ambientale ed ecologica e vuole sensibilizzare il pubblico giovane sulle pratiche virtuose per la tutela del nostro pianeta. Green il Salvaterra racconta la storia di due cittadine una immersa nella spazzatura e governata dalla potente Lady Trash e l'altra pulita e ordinata governata dal preciso sindaco di Borgo Tranquillo e sostenuta dalla teoria Piccoli Passi di Miss Wonderful e del suo assistente alieno Green il Salvaterra. Lo spettacolo rientra nella sezione Famiglia Teatro e ha un costo di ingresso di soli 5 euro.